Allora praticamente io mi porto Dentro il mio TrueNASCondivisioni file Entro dentro Vado nei backup dump E trovo tutto quello che vedo qua In backup Tutta questa roba qua Vado a farmi una somma E vedo che Più o meno tra questo e questo Siamo a 500 giga Più altri 140 giga Siamo a 650 Con 700 giga Dovremmo fare tutto Dato che qua non ho possibilità di muovere Le cose lo faccio direttamente Dal file system ovvero vado lì E lo sposto dentro il volume da 2 terabyte Andando a cancellare qualcosa Che non mi serve Facendo spazio formattando tutto E mi sposto la roba e ho calcolato Che siamo intorno ad un terabyte Della roba che c'è qui La stessa cosa la vado a fare anche sul chef Quest'altro Faccio due conti E vedo che Stiamo parlando di Un totale Che potrebbe fare 300 350 Con due Un terabyte e mezzo Dovrei Riuscire a Mettere Sul disco Secondario usb Tutto quello che mi serve Stiamo solo parlando di roba Che effettivamente non mi serve Nel senso che se io perdo uno di questi backup Tipo windows clean Windows che ho fatto da zero Lo posso rifare Mezz'ora lo rifaccio Quindi o faccio tutto Oppure solo delle macchine Che più mi servono Come ad esempio La windows 11 mia Dove c'è Più roba sopra Oppure Sto attento a quella roba lì Poi effettivamente Il resto si potrebbe perdere Quindi metto su un disco usb Tutto quello che Poi posso cancellare Perché mi occuperà meno spazio Quindi vado a cancellarmi Quel terabyte e mezzo Di roba Dai dischi in ride Trasportandolo su usb E questa è una roba Che mi faccio In questo pomeriggio In estrema sintesi Questo è il programma Che utilizzo Ovvero vado a fare Sempre il solito resync Di tutta la dump Che in questo caso È sottinteso Che è del nodo 44 Sul mount Diretto sul nodo 44 Del usb Da 2 terabyte Dove ho creato Una cartella BK VM Dump Della 44 E poi farò la stessa cosa Della 47 La 44 dovrebbe avere Una velocità di 10 gigabit Per quanto riguarda la rete È una velocità Dell'usb 3 Che sinceramente ignoro Vediamo se ce lo dice lui Ok Una bella velocità Sto copiando tutto Per evitare di stare lì A controllare Cosa sì e cosa no Dopodiché Do lo stesso comando Sulla 47 Andando a prendere qua Il backup Di chef Sulla 47 E anche lì Andremo a controllare A quanto va Vedete che comunque Lei scende Ad una velocità Di circa 1 gigabit Ma in alcuni casi Sale a oltre 1 gigabit Basta Adesso lo faccio E va avanti Il tempo che ci vuole Dopodiché Cancello tutto E se ho bisogno Di tirare dentro Un backup Non faccio altro che Spostare di nuovo Una di queste macchine Di questi file Sopra la macchina Dove c'è il dump E me lo tiro dentro Con questo sistema Non andando a prendere Solo ed esclusivamente Il ZFST Il ZFST Ma tutto Perché ho comunque L'originale Quindi Sì Non posso tornare indietro Al 2003 anni fa Quando ho creato La macchina Se si distrugge Però c'ho La versione di oggi Fatto questo Distruggo il chef E creo Un backup server Poi Sicuramente Distruggo il chef E poi vedo Cosa utilizzare Per fare il backup server Perché si potrebbe Utilizzare la macchina Su cui adesso C'è chef Che ha già La scheda A 2.5 gigabit E fino a qui Me ne stavo Tranquillo Tranquillo A fare i miei backup Guarda Ad un certo punto Il TrueNAS Non risponde più E cominciò A tirare dentro Questi comandi Che vedete a schermi Z pull of Offline Z pull online Z pull Net disk Z pull Net disk Altre opzioni Non sono riuscito A capire Fino a qui Perché Il sistema Non funzionasse Ovvero Questo net disk 2TB 2TB Non era più disponibile Non era più In lista Il sistema Non lo vedeva più In lista Continuo A dare opzioni Su opzioni Anche dall'interfaccia Grafica Vado a fare Un import Del pool Facendo Import An existing pool Vado a fare Next Ma niente Non trova nulla A questo punto Comincio a dire Ma come mai Non ci sono i dischi Cos'è successo Con questi dischi Dove sono i dischi Anche se vado a vedere Anche se vado a vedere Nella sezione dischi Mi dice che C'è un n Barra E non ci sono Allora A questo punto Capisco che qualcosa Potrebbe essere successo Sul proxmox Vado in proxmox Tramite ssh E comincio a vedere Se ci sono i dischi Col solito comando LS PLK E guardando qua Vedo che c'era Un sda 0 byte E un sdb Sano E dico Hai il resto Che fine ha fatto Dove è il resto Vado a vedere Nell'interfaccia grafica Mi porto all'interno Dei dischi E questa è la situazione Dove sono i dischi Che fine hanno fatto i dischi Un altro paio di comandi Per vedere Che fine hanno fatto i dischi E effettivamente Magari dopo un paio Di riavviti Mi si vedono solo Due dischi su cinque E quindi I tre dischi Che fine hanno fatto Sono entrati in KO Mi si è Distrutto Piego praticamente TrueNAS Ha smesso di funzionare Bell'e buono Non è che è proprio Bell'e buono Io avevo già un po' Il sentore Perché ho fatto Un paio di settimane fa Ho fatto il video Dove funziona tutto Tutto a posto Sono due anni Che tutto funziona Accensione Tutti i giorni Questi due giorni Sto facendo Ve lo fosse anche Già detto Forse ve l'ho detto Prima Sono già passati Tre giorni E da lunedì Sto riassettando L'hardware Allora cosa sto facendo Per riassettare L'hardware Volevo salvare Tre macchine virtuali Molto grosse Smantellare TrueNAS Sì Smantellare TrueNAS No Ci stavo ancora Riflettendo Comunque Togliere di mezzo I backup fisici Delle macchine Da TrueNAS E buttarli Sul Proxmox Backup server Che ho appena finito E stavo proprio Facendo quello Quindi stavo Massacrando TrueNAS Per le ultime volte Perché dentro ci sono I backup Quindi stavo ripristinando I backup E trasferendoli Su Proxmox Backup server Perché non c'è Altra possibilità Tre macchine Belle cicciotte Che ho voluto Volevo trasferire A un certo punto TrueNAS E' venuto a mancare Tre dischi KO Su 5 Adesso Cerchiamo Di Recuperare i dati I dati Io comunque Ce li ho già Backupati 3 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 Diciamo Che Stavo liberando E avevo già liberato Un terabyte Di spazio Peccatissimo Ecco Peccatissimo Perché mi stava riuscendo Tutto Prima che Sentivo Che magari qualcosa Se andava a quel paese Adesso Vediamo Se ripartono Perché proprio Proxmox Che non vede I dischi Li vedo da BIOS Ma non Li vedo Sul sistema Sto facendo L'upgrade Per vedere se Non li vedo Neanche Da kernel Se non li vedo Da sistema Se non li vedo Da sistema Un problema Mi era successo Anche con l'altro sistema Proxmox Che a un certo punto Non l'avevo visto più E poi E tornate a vederli Comunque La cosa ideale È sempre avere E adesso Lo facciamo Sul canale Perché adesso Lo facciamo È avere Una Sincronizzazione Delle cose Fatta Bene Sincronizzazione Delle cose Che per farla Bene Hai bisogno Di dischi Capienti Quindi Compriamoci Un paio di dischi Da 4 8 tera Da mettere A posto giusto Sia In produzione E sia offline Andiamo a vedere Il successo Eccomi qua Tutto è bene Quel che finisce Meglio Se finisce Bene Vi faccio vedere Più o meno Come ho fatto A recuperare Tutto Vi faccio vedere Sempre da interfaccia Grafica È successo qualcosa Sul nodo principale Non so che cosa Comunque All'interno di Windows All'interno di PVE Dischi Ho staccato Tutti i dischi Li ho staccati tutti E ho Anche Sostituito I dischi Da 500 giga Qui ce n'erano 5 Con 3 dischi Da 1 terabyte Andando a distruggere Quello che era Il chef E ho messo I dischi Da 1 terabyte Li ho messi tutti 3 dischi Da 1 terabyte Da 3,5 All'interno Di Proxmox E poi vi faccio vedere Che cosa ho fatto Qui Poi ho creato Il Proxmox Backup server Dove è andato a finire Ecco Proxmox Backup server Con Avevamo detto Lo faccio così Lo faccio con la Non lo faccio così Non lo faccio con la Ho caricato Alla fine Il sistema L'ho caricato Su una chiavetta USB Che è questa Da 32 giga Ed è stato Un bagno di sangue Ci ho messo 3 ore Per farlo E ho caricato 3 di 5 dischi Da 500 In modo da avere Uno storage Di circa Vediamo se C'è la possibilità Di farvelo vedere Di circa Un terre 8 Il solito Terre 8 Che mi ballavano Come vedete Io ho tirato su Content Le macchine Che mi serviva A buttarci su Io ho buttato Sulla 100 Io ho buttato Sulla 102 Che in questo caso È il Nextcloud Da 300 giga E altre 2 3 macchinine Che ho trovato In giro Era proprio Per fare Questo giro Di macchine Che mi sono Distrutto Il trunas Perché Per metterle Qui dentro Per storarle Per immagazzinarle Dentro questi dischi Io dovevo Andare Qua Vediamo se Ve lo faccio vedere Dovevo fare Una cosa del genere Fare il restore E poi Una volta fatto Il restore Andare Qua Prendere la macchina Fare il backup E cambiargli Lo storage E rifare Il backup Quindi Prima 300 giga A salire E poi 300 giga A scendere Bella e buona A un certo punto È schioppato Il trunas Non ha più visto I dischi Più che Trunas È schioppato Qualcosa All'interno Del computer Non vedeva Più i dischi Anche se adesso Questi tre Li vede E voglio vedere Anche se vede Quello che gli attacca Quindi magari È stata solo Una paturnia Momentanea Non lo so Non lo so Ma Ho eliminato Quello che dovevo fare Io era Eliminare Dal disco Dal disco Di trunas Che Vi dovreste ricordare Era Il disco Che qui Segnava Lettra T Di trunas La lettra T Di trunas Adesso È stata Spostata Sul 40 Se l'ho acceso Eccolo qua Il net disk Esattamente uguale A prima Non è cambiato Assolutamente Niente Se gli do anche la T Il sistema Non si accorge Di niente Il sistema Windows Qui dentro C'è tutta la roba mia All'interno Di backup Ho cancellato Tutti I singoli Dump Che ci sono ancora Backup Dump Backup Template Cache Image Infatti Non c'è più niente Non ci sono i dump Di sistema I dump Di sistema Erano i backup Singoli Delle macchine Quindi quando vai qua E fai backup E lo backup E qui Beccavi Quello che non c'è più Il backups Facevi i backup Singoli Backup singoli Che non è che sono Sbagliati da fare Ma se tu Non usi Il Proxmox Backup Server Vuol dire che Se tu hai 10 macchine Da 100 giga ciascuno Andrai ad occupare 110 file Da 100 giga Per backup Poco più o poco meno Magari hai delle macchine Che non consumano 100 giga In totali E magari Risparmi qualcosina Ma Il potenziale Del tuo backup È un terabyte 10 file Da 100 giga Ciascuno Se invece Utilizzi Come voglio fare Io E basta Anche backup Sib Con i one shot Insieme ai backup Schedulati Il Proxmox Backup server Avrò il fattore Di Deduplicazione Che mi aiuterà Quando lo vedo C'è da qualche parte Il fattore di Deduplicazione Che mi aiuterà Mi aiuterà A risparmiare Spazio Significa che qui Anche se Anche se Ho Un terabyte Anche se Farò Backup Per un terabyte Di tutte le mie Macchine Virtuali Con il fattore Di Deduplicazione Su alcune macchine Questo Dato Scenderà Perché la tecnologia Mi aiuta A risparmiare Spazio Quindi Forse Un terzo Di un terabyte Andrò a utilizzare Ad esempio Adesso Io ho dentro Una macchina A 300 giga E' una macchina Da 260 giga Full Piene E come vedi Uso meno di 500 giga Quindi Funziona la tecnologia Mi aiuta A risparmiare Spazio Ed è quello Che volevo fare Volevo trasportare Tutte le macchinine Su un disco O comunque Ricaricarle In Proxmo E scaricarle Qui per avere Qui dentro Tutte le macchine Tutti i contenuti Tutta sta roba qua L'ho dovuta Alla fine Dato che non sono Riuscito Perché si è spaccato Le ho messe Su un disco usb Quindi sarà Un lavoro Che non faccio più ormai Lo faccio solo ed esclusivamente Se c'è un bisogno Se c'è un bisogno Di recuperare una macchina La tiro su E la carico In quel momento Quindi Proxmox backup server Costruito al nodo 45 Ha preso il posto Di un altro Di un altro computer Distrutto Chef Distrutto Ma manca ancora Sapere come ho fatto A recuperare i dati Tutti i dati Dei dischi Che non funzionavano più Su TrueNAS TrueNAS È spento Posso accenderlo Posso backuparlo Posso tentare Di farlo funzionare Ma non ha più senso Per me Backup Su TrueNAS Perché voglio Utilizzare Esclusivamente ZFS Anche a riga di comando È nativo Sui sistemi Linux Quindi posso utilizzarlo Su tutto Che cosa ho fatto Quindi per Non installare Un altro sistema TrueNAS E quindi fare l'import Con un altro sistema TrueNAS Da un'altra parte Non ho fatto altro Che utilizzare Un computer Linux Con Ubuntu Sopra Ho preso quindi Questa Questo disco Sulla macchina Che poi ho messo Un indirizzo IP40 Era un Ubuntu Che utilizzavo ogni tanto Per fare Dei prove Allora Praticamente Ve lo faccio vedere Da qua Prima di tutto Allora Installiamo Installo Ubuntu Sulla macchina Che adesso si chiama Paranta Hostname Si è preso il nome Di un computer A caso LS BLK Ho caricato I dischi Quindi li ho installati E vedete che qui ho Allora Attualmente Dovremmo avere Una partizione Su cui è installato Il sistema operativo Una partizione USB di backup Che ho fatto Ho tirato su I backup Delle dump O di tutto quello Che c'era da Backupare Su tutto l'array Per avere Un doppione E da SDC in poi Sono i miei 5 dischi Quindi 1 2 3 4 E 5 Fino a SDG Sono i miei 5 dischi Fatto questo Vediamo se Isto ci aiuta Fatto questo Vediamo dove dobbiamo andare Eh dobbiamo andare Precchio in su ragazzi Allora qui è ancora La roba di CEF Quindi qualche Tentativo fatto Su CEF Ho installato Le ZF Utils Linux Su Ubuntu Questo è un comando Ubuntu Ho provato a vedere Lo status Come era lo status Ho provato a fare L'import E mi diceva Guardate che devi importare Il nome dei dischi Però si vedeva Ho importato Ho tentato di importare Il NetDisk 2TB E non c'è riuscito Per qualche motivo Ho dato l'opzione Force Ed ha funzionato Ed è finito Il lavoro Sui dischi Fino a qua Due comandi dati bene Tre comandi Alla fine Dati bene Dopodiché ho Visto E ve lo faccio vedere Da qui Possiamo andare alla fine Quindi Zimport Zpool Status Mi da E mi dice Che Il mio NetDisk è online E Raccoglie RideZ1 1 2 3 4 5 dischi Quindi SSD2 G2 F2 C2 E2 Non so perché C'è scritto 2 qua Sarà la partizione Secondaria Della Dell'SDD Con import Non lo posso fare Adesso penso Però Praticamente Devi mandarci L'import E l'etichetta Del volume Quindi NetDisk2TB Esattamente come L'hai chiamato Import Vai con Zstatus Tu vai a vedere Ti fa vedere anche se Quello che trova È anche offline Quindi lo renderai Online Con il comando Import Da qui Banale L'abbiamo già fatto Cento volte Non ho fatto altro Che fare un Samba Ho chiamato La partizione Di Samba O comunque L'etichetta di Samba Uguale Io ho dato il percorso Che come vedete È alla radice Perché una volta Che ho importato Il file Io lo vedo Ho importato Il pool Io lo vedo Semplicemente Il radice Eccolo qua NetDisk Se io entro In NetDisk C'è la roba mia Basta Semplicissimo Poi da qui Dari i comandi R-Sync Per sbattere Da una parte All'altra È veramente Semplice Da qui Mettere i dischi Mettere la roba Che ti serve In maniera urgente Sull'altro nodo È semplice R-Sync Meno A Z Questo è il programma Per mantenere l'archivio E il programma Per zippare Quando invi I dati Se vuoi vederlo Sempre progress Ma da qua Io voglio Da NetDisk Ad esempio Tutto Ipotizziamo tutto Ma dove lo voglio mandare Lo voglio mandare Su root Chiocciola Indirizzo del mio server Finale Che nel caso Era 44 Due punti E poi gli devo dare Il percorso Che dall'altra parte Potrebbe essere A memoria MNT PVE E poi Ci potrebbe essere Il bug ups Ci potrebbe essere Il dump Ci potrebbero essere Le isos Quindi voglio fare Questo quello Do l'invio E parte Comincio a sincronizzare Gli devo mettere La password Di root Questa qui Per andare Dall'altra parte Una volta che gli ho dato I privilegi amministrativi Dell'utente maggiore Root Lui scrive Da qualsiasi parte Sul disco E quindi anche qui Mezza giornata Back up Quello che mi serve Dall'altra parte Utilizzando questo sistema Sono andato ad esempio A importarmi subito Le isos Che mi ero perso Che mi sono messo Qui mi sembra Eccolo qua Le isos Queste qua Che erano Tutta la collezione Di roba Che avevo di là Per installare Per installare i sistemi Invece di scaricarmeli Uno per uno Mi li sarei dovuti scaricare All'occorrenza Che serve con l'Ubuntu Per fare una prova Di qualcosa Ce l'ho Se no me la scaricavo Nessun problema Quindi Aggiustato di là Messo in condivisione Qui Quindi c'ho tutto C'ho tutto come prima Continua a funzionare Spiegabilmente Funziona benissimo Quindi Molto probabilmente Non erano i dischi Schioppati E penso che A breve Vedremo Che cosa Non funziona ancora Nel nodo principale Perché ogni tanto Mi da qualche problema Però sono quei problemi Random Che non riesco a capire Come beccarli Cosa ho fatto Ho cercato Di aggiungermi Comunque Un disco Uno storage Un magazzino Sul mio computer Principale Dove buttarci la roba O farci funzionare La roba Perché Perché sempre Sul data center Vediamolo da qua Comunque Vediamo Dischi Io ho Questo contenuto Qui Questo disco Questo data Questo gruppo LVM PVE Che comunque Ha Un terabyte Di spazio SSD M2 In ride Per far funzionare Tutto quello che passa Su questo data center Come Macchine Con dischi Veloci Il mio Spazio necessario E quello che mi potrebbe servire Come vedete qua C'è anche Il backup O comunque La macchina Funzionante Di nextcloud Perché Sempre la stessa settimana Non so se l'ho fatto vedere L'ho fatto vedere Schioppato pure questo Che fa da router Faceva da router E faceva da nextcloud Dentro qua Ancora non ci ho messo mani Ma l'unica cosa che ho fatto È il backup Di tutta la macchina Macchina virtuale L'ho passata qui Così continuava A funzionare Solo che questi Sono 300 giga Che Non mi andava Di tenere Sulla macchina principale Ovvero Su questa partizione Perché Fate 853 Meno 300 Già arriviamo Allo spazio utile Per una Macchinina Un po' più grossa Che devo caricare Non c'è spazio E allora Mi sono ricreato Il I dischi Mi sono ricreato I dischi Questa volta Ho preso solamente Tre dischi Da un terabyte Sempre provenienti Da chef Le ho wipe Inizializzati Wipati E messi dentro Con zfs Zfs Quando crea il pool E qui ti fa vedere I dischi che sono disponibili E ti crea il tuo Ride z Quindi Gli dai la possibilità Che se un disco si rompe Ce ne sono altri due Ma come hai visto Nel mio caso Se ne sono rotti Tre Su cinque Quindi Non si è rotto uno Ma fisicamente Non si è proprio rotto Cioè Proprio lì Il controller Che ha smesso di funzionare Quindi Dati comunque persi Almeno su questa macchina Poi recuperati Dall'altra macchina Ho fatto lo zfs Quando fai lo zfs Lui crea Sempre qua dentro Uno storage Che non accoglie I dati Come lo accoglie Questo qua Che ho creato Mi accoglie Forse Solo il backup Non mi accoglie Le VM Delle macchine Mi accoglie Solo il backup E basta Forse Il backup E qualche altra cosa Forse Mi accoglie solamente Il backup E non me ne faccio nulla Perché se lo voglio utilizzare Come macchina Come disco Non posso farlo Io volevo sbatterci sopra Il disco Questo qui Infatti poi ce l'ho sbattuto Ve lo vado a vedere Qua c'è Il disco principale L'ho messo Sopra Il disco principale Della macchina virtuale L'ho passato A questo storage Che è un po' più lento Ma un po' più capiente Come ho fatto Praticamente Quando crei Il zfs Da qui Una volta che l'ha creato Poi crei anche Vai sempre in data center Vai in Storage Qui E aggiungi Una cartella Directory E gli dai lo stesso percorso E qua vai aggiungere Tutte le cartelline che vuoi Gli dai di base Lo stesso percorso Qui ti si crea Un altro hddb Che si chiama Quello lì Si chiamava Senza l'etichettina Trattino backup BKP Che però Conteneva molto meno Cose al suo interno Creato questa Che chi tiene tutto Ci possa spostare tutto Posso fare Gli storage Il backup E le macchine virtuali Quindi se qua Mi passa una macchina virtuale Che pesa troppo Io lo sbatto qui E vedo se Le prestazioni sono decenti Se le prestazioni Non sono decenti Devo aumentare lo spazio Da quest'altra parte Ma il costo è maggiore Adesso si rendono Necessarie due cose Per quanto mi riguarda Imparare ad utilizzare Benissimo I comandi ZFS Per riuscire a spostare Gli storage Da una parte All'altra Perché adesso Io posso prendere I gruppi Di dischi E spostarli In qualsiasi Altra macchina Che può accogliere Quel gruppo Di dischi Quindi se ne sposto Cinque Devo avere Cinque Cinque porte SATA Su un qualsiasi Computer host Per farli funzionare Se non ho questa tecnologia Mi devo procurare Il necessario Per farlo funzionare Come ad esempio A me mi ha dato una mano La scheda Da dieci porte SATA E un qualsiasi sistema operativo Open Come Linux Come Ubuntu Con il programma ZFS Io posso Giostrare tutto Vorrei riuscirlo a fare Senza interfaccia grafica Aumentare Diminuire E togliere E scambiare i dischi Quindi questo È un appunto Da fare In futuro Prima di giocare Con questa roba qui Dobbiamo mettere in sicurezza Tutto Quindi cosa occorre fare Occorre Creare Un posto per i backup Io qua l'ho già creato In backup Ho già ammesso Che alcune macchine Vengono backupate Tutti i giorni Alle 12 Questo backup Non sarà integrale Nella macchina Ma sarà solo Differenziale Quindi Solo la roba Che è stata aggiunta Andrà ad occuparmi La banda Quindi questo PBS Tanto ve lo posso tenere A portata di mano Tanto lo posso mettere Da un'altra parte Perché Sposterà solo qualche giga Che su una qualsiasi rete Può metterci Un quarto d'ora O 20 minuti Invece che due secondi Ed essere spostato Da un'altra parte Quindi Proxmox backup server Fatto Ma deve essere Programmato Su tutte le macchine Che funzioni Abbiamo visto qua Che sta funzionando Ha fatto già Ha già collezionato Dei dati Ha già fatto 8 backup Ha già eliminato qualcosa Ha fatto il prun di qualcosa Quindi già molto bene Questa è l'unica soluzione Di backup Che funziona Se si distrugge tutto Con il sistema Che ho utilizzato Di mettere Il dischi Da un'altra parte O comunque Su un altro sistema Ho risparmiato Un true nas Con Almeno 16 giga Di ram Ma ho spostato Il problema Da un'altra parte Qui devo trovare Anche Il metodo Di backup Proprio Dei dati E questo Devo pensare A come fare Su La differenziazione Dei dati Devo mettere Da una parte I video Da tenere Sincronizzati Con un'altra cartella In modo automatico Dall'altra parte Devo utilizzare Un altro sistema Per tenere Sincronizzati I dati Quelli Non grossi Come i video Ma comunque Sempre funzionali Come ad esempio I documenti Per i documenti Ho pensato Nextcloud Che è già in funzione Io ho anche Un altro data center Su cui scarico i dati Quindi nextcloud C'ha i documenti Piccoli I documenti Clienti I documenti Piccoli Piccola documentazione Che mi serve Mi serve Qualc'altra cosa interna Per movimentare Immagini E video Che sono più pesanti Da tenere Sincronizzati Per questa cosa Qui devo pensare A come fare Se utilizzare Le macchine virtuali O no E mettere In esterno Quindi Per far funzionare Il tutto Qui abbiamo bisogno Di almeno Un proxmox Sempre acceso Un proxmox Backup Server sempre acceso E almeno Un terzo computer Da tenere Sempre acceso O che si accendono Quando serve Quindi tipo A mezzogiorno Si accendono O restano accesi Tutti quelli che si devono Accendere E partono I backup Devo pensare A questa cosa Per il momento Si conclude qua Perché sono stato in grado Di ripristinare tutto E ci ho messo Una settimana Per fare tutto Dopo questa pausa Di riflessione Andiamo avanti Di ripristinare tutto Di ripristinare tutto Di ripristinare tutto Di ripristinare tutto Di ripristinare tutto